cos'è l'uno è solo un numero o forse è ciò che platone considerava quando parlava di enti intermedi tra i sensibili e le idee forse l'uno è ben più di un numero forse è un'idea direttiva della nostra mente il motivo per cui esiste un'idea di pace il motivo per cui abbiamo il desiderio di compenetrarci l'un l'altro di essere una sola cosa la voglia di ambire all'unificazione sessuale a vivere la vita come se si fosse una sola persona pur essendo in due quando dico uno io non voglio parlare soltanto del numero ma di ciò che lo rende possibile e rendendo possibile il numero rende possibile ogni cosa dell'esistenza ecco gli argomenti che tratteremo in questo video innanzitutto parleremo dell'utilità della metafisica per trattare l'uno quindi vedremo come l'uno è una quantità e anche un principio ordinatore dunque passeremo agli enti intermedi numerici di platone e all'uno come insieme vuoto dunque l'uno come possibilità di ogni unità nel rapporto tra mizos e logos faremo un salto nell'antica grecia l'uno è molteplice e alla fine come scorgere l'uno nel molteplice per spiegarvi però che cosa voglio dire ricorrerò alla metafisica sapete la metafisica quella disciplina che ormai è considerata niente più che una mera fantasia a meno che non venga applicata alla pura logica e allora diventa il modo per distinguere le cose i principi logici tra di loro oggi la metafisica è soltanto una direttrice della mente che ci aiuta a ragionare eppure la metafisica è molto più di questo la metafisica infatti è la strada per capire in che modo ciò che abbiamo davanti ai nostri occhi sia molto di più di ciò che è davanti ai nostri occhi è un modo per compenetrare la realtà per approfondire lo sguardo e vedere in pienezza ciò che ci sta di fronte che non è soltanto un fatto fisico un dato materiale e non è nemmeno un insieme di eventi oppure di casi riconducibili ad un ordine logico la realtà è molto di più la metafisica ci aiuta a capirla iniziamo perciò a vedere che cosa c'è dentro il concetto di uno uno è innanzitutto una quantità per esempio questa matita questa è una matita e dunque una semplice quantità l'uno ma proprio il fatto che questa sia una matita ci permette di dire che non si tratta di due matite quindi due matite è già una quantità diversa rispetto a una matita allora se io provo a contarle abbiamo una e due matite quindi uno diventa già qualcosa di più della mera quantità uno è il principio per ordinare le cose tra di loro per metterle in relazione tra di loro questa è una perché viene numericamente e quantitativamente prima di due matite quindi uno è innanzitutto il numero iniziale della serie dei numeri naturali 1 2 3 4 eccetera questa possibilità di numerarle deriva da ciò che platone chiamava ente intermedio numerico cioè un ente intermedio tra i sensibili queste matite realmente esistenti che tocco con le mie mani e le idee dei numeri l'idea di uno è ciò che mi permette di capire che una matita non è due perciò quello che mi permette di operare una distinzione e dunque grazie agli enti intermedi numerici che ho la possibilità di contare facciamo un passo ulteriore sempre rimanendo a livello matematico è possibile pensare all'uno come a quell'insieme vuoto che mi permette l'esistenza degli altri insiemi è un insieme che permette di contenere tutti gli altri insiemi numerici quindi gli insiemi numerici dell'uno tutti gli insiemi che contengono un oggetto gli insiemi numerici del due tutti gli insiemi che contengono due oggetti e via dicendo sono resi possibili proprio dall'esistenza di un insieme che li precede tutti che è un insieme vuoto è proprio la possibilità di contenere qualcosa dunque la possibilità della quantità ma in questo modo è anche la possibilità di ordinare qualche cosa siamo già quindi arrivati a capire come l'uno possa essere la possibilità dell'esistenza di quantità dunque ben più di quella quantità iniziale di cui parlavamo prima è proprio la possibilità di ogni singola quantità le quantità esistono dunque perché c'è l'uno attenzione uno con la u maiuscola l'uno allora non è più soltanto l'unità ma è la possibilità di ogni unità sotto questo aspetto qui arriviamo al punto importante l'uno corrisponde al principio di ogni cosa permettetemi una piccola digressione nell'antica grecia il ragionamento era ciò che dava parola a quello che non aveva parola forse l'uno originario questo uno come principio è pensabile alla stregua del mito il mito in greco si dice mythos era per la grecia che ancora doveva aprirsi alle altre civiltà ciò che era chiuso in sé rappresentava proprio la modalità tipica del pensiero greco infatti raccontavano attraverso grandi storie immaginifiche colme di simboli che non avevano di per sé un significato razionale preciso ma erano come degli immensi serbatoi di significati che servivano a ordinare e a dare senso alla realtà nell'epoca classica infatti nell'epoca antica il mito era esattamente ciò che dava senso all'ordine delle cose un pensatore che ha messo in evidenza questo aspetto è stato per esempio mirsea eliad il mito si caratterizza proprio per un linguaggio molto fantasioso che è ricco di simboli dunque anche spesso molto distaccato dalla realtà delle cose irrazionale però come dicevo il mito è quella serie di racconti ambientati in un passato ormai del tutto irraggiungibile ben dietro alle nostre spalle che però permette di ritrovare il significato di ciò che viviamo oggi in questo modo i popoli antichi vivevano il mito per questo motivo il mito era capace di offrire un senso più profondo all'esistenza però del tutto chiuso al ragionamento razionale nel momento stesso in cui però si incominciò a ragionare sui miti ecco che nacque qualcosa di diverso nacque il ragionamento tipicamente filosofico il logos il discorso razionale applicato alla realtà capirete bene come un mito razionalizzato in realtà non sia più un mito ma diventi qualcosa di completamente diverso allo stesso modo anche l'uno come principio nel momento in cui viene razionalizzato cioè nel momento in cui ci si ragiona sopra diventa qualcosa di ben diverso dall'uno come principio come abbiamo visto in merito a quello che dicevamo rispetto al rapporto tra l'uno e le quantità se ragioniamo sull'uno come principio lo trasformiamo automaticamente in molteplicità iniziamo a fare dei distinguo creiamo delle differenze delle definizioni e questo ci porta effettivamente lontano dall'uno come principio capace di unificare ogni cosa niente di più facile perciò del dire che 1 più 1 fa 2 nel momento in cui io ragiono sulla differenza tra questo 1 e la differenza tra quest'altro 1 che di per sé sono entrambi 1 non posso che dire che messi assieme fanno 2 però se poi li unisco e li considero come insieme questo è un insieme che contiene 2 matite ci rendiamo conto di come la quantità sia già questa uscita dall'uno come principio ragionare sulla quantità ci porta già lontani dal principio stesso la quantità è 2 ma l'insieme è 1 per questo motivo possiamo dire che ogni quantità è fondata sull'onnipresenza dell'uno perché le cose siano e necessario che ci sia l'uno quale fondamento a questo punto mi chiederete è il tutto perché questo video è intitolato all'uno e al tutto tu ci stai parlando soltanto dell'uno la risposta arriva subito il tutto nasce proprio da qui da questo uscire ragionato tramite definizione tramite differenza questo uscire della molteplicità proprio dall'uno come principio noi non possiamo mai pensare il principio isolato dalla molteplicità perché ogni molteplicità che noi consideriamo contiene dentro di sé quel principio che la rende possibile proprio come l'insieme che contiene il 2 ci rimanda in continuazione a quell'uno come principio che permette di considerare questo 2 un insieme sebbene la nostra realtà sia molteplice sebbene sia un proliferare continuo di realtà che si sovrappongono si sommano, si moltiplicano tra di loro di casi che rimandano sia a un ordine ma che è un ordine in qualche modo sempre numericamente ordinato se però tentiamo poi di tornare attraverso il ragionamento attraverso il logos a quel principio dal quale tutto deriva ebbene non ci riusciamo l'uno è avvolto da un'oscurità dalla quale il logos il ragionamento che conduce al molteplice è escluso l'uno continua ad essere avvolto proprio come il mitos rispetto al logos ciò nonostante esattamente come abbiamo fatto in questo video è sempre possibile scorgere al di sotto della realtà molteplice la presenza costante dell'uno il principio è sempre presente e non è mai possibile eliminarlo ma allora che cosa ci rimane di questo uno come principio? quando guardiamo alla molteplicità attorno a noi e che è anche dentro di noi che cosa ci rimane di questo principio universale? in che modo ci riguarda se ci riguarda? direi questo che se noi possiamo distinguere qualcosa se noi possiamo parlare di quello che ci riguarda di quello che ci sta attorno del mondo in cui viviamo è possibile farlo grazie a questo principio basilare fondamentale un principio della nostra esistenza ma che in qualche modo ci rimanda in continuazione a qualcosa che è di più della nostra esistenza è un uno inattingibile che non può essere in qualche modo toccato direttamente ma lo si può raggiungere sempre e soltanto attraverso il ragionamento e perciò attraverso il molteplice questo ci permette di intravedere un aspetto particolare dell'uno cioè l'uno è sempre relazione sarebbe importante e interessante a questo punto vedere in che modo l'uno sia relazione e in che modo tale relazione sia presente nell'uno come principio ma dunque anche nel molteplice della nostra realtà però questo approfondimento lo faremo in un altro video per il momento ci basti ricordare questo l'uno è sempre presente nel molteplice non vanno mai pensati divisi tra di loro perché l'uno rimanda al molteplice e il molteplice rimanda all'uno da cui origina grazie a tutti Grazie a tutti.